Il giorno seguente l'approvazione del decreto sicurezza, che prevede tra le altre cose il reato di immigrazione clandestina e la legalizzazione delle ormai famose ronde, siamo andati in giro per le strade di Macerata per chiedere ai passanti le loro impressioni a riguardo. Sentiamo cosa ci hanno raccontato. Io credo che sia quasi incivile una cosa del genere, perché non siamo preparati neanche a accogliere stranieri sostanzialmente che non sono tra virgolette clandestini. E quindi anche per quello che riguarda la gestione della clandestinità credo che non siamo preparati. Pertanto ritengo che la legge in proposito sia altrettanto discutibile, così come è discutibile il modo in cui noi veramente gestiamo proprio l'incoming. Per mio conto mi pare che sia un opproprio, perché non è possibile. Io da cittadino penso come faranno le forze dell'ordine a multare le sanzioni di 10.000 euro a un povero disgraziato che se lo scaporti non c'ha manco una lira. La più grossa stupidaggine che potrebbe aver fatto questo governo. Non si può dire altro, perché in effetti è quello. È un'assurdità. Decreto sicurezza, alcuni punti è giusto più che giusto, altri potrebbe essere a criticare, però è stato buono. In parte sono d'accordo. Sì, pensi che fosse essere utile come integrazione alla forza pubblica? Sì, sicuramente, perché è una sicurezza in più per il cittadino. Completamente contraria, perché se questo è un paese di cattolici vuol dire che siamo finiti, perché la carità cristiana non sa dove sta di casa questo partito e questo governo. Volevo sapere le vostre impressioni sull'ultima legge che è stata approvata dal governo, il pacchetto sicurezza. Quello in cui è stato inserito il reato di clandestinità e le ronde, che cosa ne pensate? Le ronde poi, quella proprio non mi sta bene, è per quello che capisco io. Loro non c'è un soldo, come fa a pagare le murte? 250 euro, 250 euro, mi diceva, mio figlio oggi, stiamo parlando a nostra televisione, ha detto che fa le murte, minimo 50, massimo 200 euro. Ma che non c'è un soldo? Viene qui per guadagnare una lira, quelli onesti, per mangiare, per rimediare, che cosa? Come fa a pagare la murte? Le elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 hanno sancito nella provincia di Macerata, tradizionalmente a pannaggio del centro-sinistra, la vittoria di Capponi, candidato del PDL e dei suoi alleati. Silenzi, presidente uscente del Partito Democratico, nonostante la popolarità e una serrata ed esperta campagna elettorale, non riesce a sottrarsi alla crisi di fiducia che investe le sinistre di tutta la penisola. La sua sconfitta è simbolo di un territorio che cambia. Nella marca alta, per decenni satellite dell'Emilia Rossa, il consenso, una volta blindato, inverte la direzione. Non esistono più le regioni rosse? Chiediamo spiegazione ai cittadini e Macerata risponde. È stato un bel espluare, a vantaggio della destra, a vantaggio dei cittadini. Non è un voto di destra estremo, ma è un voto dovuto al fatto che la legge sull'alternanza serve proprio a questo. Tre gestioni di centro-sinistra potrebbero aver stancato la gente. Ha votato per Capponi, quindi? E mi piace tantissimo, anche a Natale Capponi. Può portare sempre qualcosa di buono a un cambiamento, perché se no penso che cambiando qualcosa potrebbe migliorare. È più ottimista e meno pessimista. Bisogna essere ottimisti e cercare di andare avanti. Con la storia di essere pessimisti andiamo sempre indietro. Cioè, questa gente che non si sente sicura, sono questi che votano Lega, perché pensano che gli dia più sicurezza. Che te devo dire? Ci abbiamo capito un poco, però quello poco ci ho capito, o meglio è. Sono stato sempre sotto padrò e mi piace di stare sotto padrò. Dopo quell'anni che commanna ci penserà. Non vi dovete prostituire, cioè scendere a compromessi. Cioè, è meglio pane e cipolla, ma essere se stessi, capito? Pane e cipolla.